amici di motosport.com ciao a tutti siamo a fare un'analisi della tecnica che il nostro esperto giorgio piola ha avuto modo di vedere nel paddock di montreal in attesa che si possano svolgere regolarmente le prove libere c'è stato un problema nel primo turno con un guaio all'alpine al cambio di pierre gasly che ha innescato la bandiera rossa e poi la sessione non mai più ripresa a causa di un problema dovuto all'elettricità che dovrebbe far funzionare il circuito interno con le telecamere allora noi siamo poco preoccupati giorgio tu sei stato tutta la mattinata dentro il paddock hai potuto vedere le monoposto e credo che quella più interessante quella che ha attirato maggiormente l'attenzione sia l'Aston Martin giusto si bisogna ringraziare devo dire il sistema di far vedere le vetture il show and tell che viene fatto a mezzogiorno quindi un'ora un'ora e mezza prima dell'inizio delle prove in cui tutte le monoposto vengono schierate nel paddock a turno abbiamo 10 minuti di tempo per osservare ovviamente l'osservazione della sto martini è stata a dire poco stravolgente una macchina quasi completamente diversa da quella che abbiamo visto sinora praticamente la parte che è stata conservata ovviamente il muso l'ala anteriore abb abbastanza simile l'ingresso delle bocche proprio le bocche la forma delle bocche delle fiancate poi tutto il resto è cambiato si parte addirittura da un ulteriore pin a schermo verticale dritto rettilineo è molto squadrato molto grande subito al lato degli altri tre che ci sono nel bordo di entrata del di quello che poi diventa il fondo attaccati e proprio alla scocca molto vicino alla scocca quindi separando ulteriormente il flusso all'interno della vettura poi lo scasso sotto la parte iniziale delle fiancate è veramente incredibile devo dire che sembra ancora più estrema della reboli in certe soluzioni appunto questo scasso nella zona inferiore la parte superiore non ha più quella vascona molto larga però in compenso anche se questa vasca si è ristretta è diventata ancora più profondo come scivolo e ho fatto credo anche una bella foto dal dietro che mette in evidenza proprio questa forma di diversa tutto il flusso dell'aria la fluido dinamica interna è cambiata raffreddamente cambiato sono stati maggiorati portati più in alto e diventati più cicciosi se mi permetti il termine e quelli che tu chiami i bazooka quelli che buttano l'aria dietro e anche le feritoie che sono rimaste ecco questo l'unico punto che fosse la reddù riesce ancora a essere meglio perché viaggia con quasi completamente chiusa le feritoie sono state spostate in una zona più alta orizzontale e diverse da quelle che erano sulla stormart in precedente quindi il fondo poi è stato modificato notevolmente e dovrebbe cercare di ottenere i risultati del del fondo red bull quindi diciamo una vettura che che ha quasi poco in comune più con la vettura che abbiamo visto fino alla spagna ecco hai messo in evidenza il fatto che sia la mr 23 una macchina che spinge la ricerca a trovare soluzioni ancora più estreme rispetto a quello che finora abbiamo visto sulla red bull la red bull ha una capacità straordinaria che è quella di avere un valore medio di downforce che forse non raggiunge il picco di mercedes e di ferrari ma che viene mantenuto in una buona parte di quello che è l'andamento del giro per cui alla fine la prestazione diventa decisamente maggiore sì se vogliamo credo che in tutto questo serva l'esperienza che ha avuto anche nell'epoca dell'effetto suolo si privilegiava avere anche leggermente un po' meno carico ma averlo più costante non avere variazione di carico mentre molte squadre invece andavano alla ricerca del massimo carico possibile poi trovavano delle vetture molto picchi molto difficili da controllare molto sensibile alla variazione da terra dell'altezza del suolo da terra mentre la red bull credo che sia proprio uno di questi vantaggi di avere forse un po' meno carico della ma riuscire a avere una quantità notevolmente generosa in maniera costante sia sul lento che sul veloce e quindi riuscire ad avere quello che poi e lo si è visto quello che ha tradito tantissimo questo comportamento lo si è visto dall'utilizzo del del plank della tavola quella che chiamiamo di legno che non è di legno che la si vede usurata in maniera uniforme per tutta la sua lunghezza quindi questo vuol dire che la macchina ha un assetto perfettamente parallelo al suolo va vicino e quando lo sfiora lo sfiora in maniera parallela quindi entra in gioco anche tutto il discorso delle sospensioni anti dive anti squat quindi tutto quello che serve a ottimizzare un'aerodinamica efficientissima e non estremamente alta diciamo che poi critica da avere un range di utilizzo molto molto ristretto. Andiamo a guardare un attimo la Ferrari ci aspettavamo qualche piccolo aggiornamento e invece la Ferrari ha dichiarato zero modifiche probabilmente è una soluzione logica tenuto conto di quanto porpoising si è emerso con la SF23 Evo a Barcellona quindi dalle chiacchiere che si sono un po' sentite pare che i tecnici di Maranello vogliano prima curare il porpoising diciamo così cioè ridurre l'effetto del saltellamento a una certa velocità per poi riprendere il concetto dello sviluppo visto che di fatto i 12 punti di galleria si parlava di 3 4 decimi che sono tantissima roba in galleria del vento a Montmelò non si erano affatto visti quindi una Ferrari che torna sui suoi passi e cerca di risolvere quelli che sono i suoi problemi. L'anomalia della Ferrari è che ha smarcato il terzo motore è un po' presto per essere in una stagione con 23 gare. Sì io penso e spero che alla Ferrari siano serviti anche i giorni di test con i pneumatici 2024 che si sono potuti fare con le monoposto attuali quindi aver preso perché per conto mio anche c'è stato anche un po' un problema di svezzamento della nuova monoposto sul circuito di Barcellona. Svezzamento che invece la Mercedes aveva già fatto in parte a Monte Carlo anche se Monte Carlo non è una pista probante per introdurre una nuova monoposto ma comunque è servita per imparare a conoscerla meglio e poi appunto in Spagna sono riusciti a sfruttare al meglio qui però purtroppo la risposta se quei giorni di test pirelli sono stati utili e come si presenta la Ferrari qui a Monta non la possiamo dare al momento perché appunto come hai detto tu praticamente non ci sono state le prove. Io voglio aggiungere ancora una cosa quando tu hai detto che la Renault si è fermata subito per un problema al cambio a Gasly ancora più disastroso è stato Ocon perché la sua vettura praticamente non era uscita in pista. I meccanici hanno dovuto lavorare fino all'ultimo momento non so che cosa ma era via tutto il fondo lavoravano nella zona del vassoio del te che è quella zona davanti il t3 quello che tocca per terra l'hanno tutto smontato l'hanno rimontato ma la cosa più buffa poi per montare le due strutture ai lati del pilota quelle che i piloti sai levano e mettono quando salgono in vettura quindi lo fanno con una fallicibilità estrema ci sono voluti cinque minuti cinque minuti per bloccare questo quindi un un momento veramente quello di oggi credo che sia da dimenticare da in casa l'utino perché ha visto tutte le due vetture nei guardi ecco eh veniamo un attimo alla mercato però 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 avevano una cosa interessante un'ala posteriore ancora con delle paratie laterali nella parte superiore di raccordo col flap ancora più estreme e completamente diverse dalle altre quindi una nota tecnica secca ma anche se uno non va se però c'è una cosa nuova mi interessa lo stesso perché le novità sono sempre interessanti da rivelari rilevare ecco veniamo dunque alla mercedes una mercedes che qualcosa ha cambiato mentre la red bull praticamente ha fatto un piccolo aggiornamento ma veramente minimo sull'ala anteriore niente più la mercedes ha cominciato a lavorare in quella che noi abbiamo sempre chiamato eh l'ala centrale no che oggi è nient'altro che eh un un convogliatore di flusso verso la bocca eh di di una fiancata che esiste ma che ha un convogliamento dell'aria verso i radiatori più arretrata rispetto ad altre macchine sì è stata un po' pulita la zona di supporto degli specchietti quindi nella parte superiore di questo profilo alare che adesso è integrato completamente con la con l'inizio della fiancata e per il resto è rimasta comunque qui a montrall è una pista da medio a basso carico e ovviamente un po' tutte le squadre da segnalare che in casa i due piloti avevano la stessa alla posteriore ma Hulkenberg con il doppio pilone di sostegno mentre eh Magnussen con il pilone singolo ecco fra le squadre che hanno portato più novità c'è sicuramente anche la Williams tu nel collegamento che hai fatto con Sky hai avuto modo di parlarne perché si faceva il raffronto fra il fondo visto da sotto a Monte Carlo della Red Bull con tutte quelle aree diciamo in forma 3D molto sagomato e c'è stata una pesantissima presa in giro di quello della Williams che è molto lineare in realtà la Williams sta arrivando con soluzioni sì e hanno anche loro modificato notevolmente ma proprio tanto un po' tutta la parte superiore del ramonoposto le fiancate che hanno anche loro adesso un po' uno scavo tipo Aston Martin anche senza essere così estremo il cofano motore e le feritoie per smaltire il calore il fondo ovviamente non possiamo dire se l'hanno adesso fatto molto più sofisticato ci vorrebbe di nuovo un'altra uscita ma io non voglio sempre ripetere sto discorso perché poi se no mi becco del menagramo e finisce male non finisce come ai tempi di Forghieri quando una volta a Nuremberg io non riuscivo a vedere il radiatore dell'olio asimmetrico sulla B3 e chissà come mai mi è scappato parlando forte ci vorrebbe una toccatina e Mauro Forghieri ha chiamato Brossari e dice oh vieni qua apri un po' quel pezzo lì faglielo fotografare poi tu via dai puntini puntini ecco adesso le cose non sono più prese così in maniera scherzosa quindi non bisogna parlare che vogliamo vedere il fondo appeso su una gru Va bene Giorgio direi che abbiamo analizzato quelle che sono le principali novità che sono apparse in Canada più di quello che probabilmente ci si potesse immaginare dopo che in Spagna si era già visto approdare tantissima roba nuova giusto? Sì ma la cosa bella quest'anno che ci sono tantissime novità tantissimo sviluppo in Austria per esempio è previsto un grossissimo update sulla McLaren quindi c'è un grande lavoro anche perché c'è dietro la Red Bull che tuttora è sempre un passo avanti bisogna vedere se l'Aston Martin riuscirà a fare e a colmare il gap c'è tutta una schiera di monoposto che sono vicinissime nelle prestazioni quindi c'è il bisogno di fare sviluppo continuo perché chi si ferma rischia poi abbiamo visto che in pochissimi decimi uno rischia di perdere 6-7 posizioni quindi bisogna assolutamente sviluppare devo dire che quest'anno è una pacchia cioè praticamente gran premi senza soluzioni tecniche interessanti sinora non ci sono stati Bene siamo arrivati in fondo a questa analisi amicimotosport.com allora cliccate la solita campanella iscrivetevi al canale così riceverete le informazioni dei prossimi video e commentate qui sotto fateci sapere il vostro parere fateci delle domande cercheremo di rispondere con Giorgio ciao a tutti Giorgio buon lavoro buona serata ciao a tutti ciao